Dopo il caso Lodi spunta in Veneto una nuova polemica sul contributo ai libri per i figli degli extracomunitari. Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici in Veneto i cittadini non comunitari dovranno presentare oltre alla certificazione ISEE un certificato sul possesso di immobili o redditi nel paese d'origine rilasciato dalle autorità del paese di provenienza. E' quanto si legge nelle istruzioni per il richiedente rilasciato a settembre sul sito internet della regione e subito è scoppiata la polemica dalle fila del PD c'è chi parla di razzismo. Nel 2017 sono 27 mila gli studenti che hanno beneficiato del bonus in Veneto, qualche decina nel bassanese quelli non comunitari che hanno beneficiato del contributo che può arrivare a 300 euro. L'assessore all'istruzione, la bassanese Elena Donazzan replica punto su punto alle accuse. Nessuna discriminazione perché si tratta di una legge dello Stato che lì dal 1999 è voluta dal governo D'Alema. Noi chiediamo semplicemente che non ci sia discriminazione tra i documenti e le certificazioni che devono portare gli italiani e quelli degli stranieri. Le opposizioni in consiglio regionale chiedono intanto una proroga per permettere alle famiglie degli studenti extracomunitari di recuperare documenti difficili da ottenere. Troppe volte proprio su questo tema si chiedevano delle risposte e la certezza dei documenti agli italiani e non agli stranieri. Così abbiamo tolto le discriminazioni.